Ciao a tutti amici della bilancia, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrano in bilancia tendenze energetiche e spirituali per il secondo semestre del 2024. La luna ragazzi, periodo di introspezione. Quando c'è la luna potrebbero esserci delle questioni legate al passato che ritornano a galla, non necessariamente devono essere questioni pratiche, possono essere emozioni, possono essere persone anche certe volte. Diciamo che essendo una lettura di tipo spirituale o come l'idea che faccia riferimento a certi pensieri piuttosto che diciamo ha certe paure. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono collettive, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi, ho pubblicato una guida e trovate il link sotto nella descrizione. Sempre in descrizione trovate anche la mia mail nel caso vogliate contattarmi. c'è il link alle previsioni per il primo semestre del 2024 e per le previsioni di quest'estate e c'è anche il link ai corsi gratuiti presenti sul canale. Bene, partiamo con un re di spade ragazzi, 5 di coppe, il diavolo, wow che aria che tira ragazzi! Tenete sempre presente che queste sono solo letture energetiche, quindi prendete quello che vi risuona e lasciate stare quello che non risuona, si vede che è per qualcun altro, ripeto, siete in tanti. Allora, re di spade, 5 di coppe, il diavolo, 7 di pentacoli, 9 di bastoni, regina di coppe, e 6 di pentacoli, 6 e 7 di pentacoli avete. bilancio, come l'idea che abbiate bisogno di organizzare un po' le idee, riprendere in mano un po' il vostro potere personale, non essere così tanto, mi viene da dire empatici, emotivi, perché il 5 di coppe è una carta che parla del rimanere un po' focalizzati su quello che si aveva nel passato o quello che magari non si è potuto avere. Andiamo a vedere carta per carta. Partiamo da questo re di spade e qui è proprio quello che mi dice che avete bisogno di fare chiarezza mentale. Abbiamo una regina di coppe e un sole. Può essere che avete bisogno di fare chiarezza mentale sul vostro lato emotivo, su quello che sentite. Per molti questo sole fa riferimento ai figli, per altri fa riferimento al proprio bambino interiore. Per qualcuno si tratta di... Sento che è come se ci fossero tante emozioni, perché anche la regina di coppe è una di quelle carte che mi dice che c'è una forte empatia, una forte, come vi posso dire, un forte altalenare di emozioni, mentre il re di spade è colui che fa le regole, è solo testa e mette da parte le emozioni per raggiungere gli obiettivi che vuole raggiungere qui. È come se ci fosse da mettere in campo un po' di determinazione. Oppure, guardate, anche il sole è una carta che parla di chiarezza mentale, come se ci fosse da mettere chiarezza nei propri sentimenti, nel proprio lato emotivo. Andiamo a vedere il 5 di coppe. 4 di coppe. 8 di pentacoli e 10 di bastoni. Come l'idea che qui ci sia stato un lavoro, ed è quello che... E' come se ci fosse da lasciarsi indietro certe aspettative. Perché qui tenete presente che avete 4 e 5 di coppe. Il 4 di coppe è la carta che ci dice che probabilmente ci sono state delle occasioni, delle opportunità che non sono state colte, e il 5 di coppe è proprio la carta che indica il pentirsi di non aver colto l'offerta di questo 4 di coppe. Quindi, vi dico, io qui sento che c'è come un rammaricarsi per quello che non si è potuto fare, non si è potuto capire prima, però qui devo dire che c'è la possibilità comunque di lasciarsi indietro con questo 10 di bastoni, le aspettative, le possibilità, o semplicemente le situazioni che c'è. Ragazzi, quello che è stato è stato il passato non si può cambiare. Sì, si può cambiare l'emozione con cui viviamo il passato, però il fatto in sé non si può cambiare. Quindi, qualsiasi sia, perché l'otto di pentacoli può riguardare il lavoro, ma anche un certo tipo di quotidianità. Probabilmente qui qualcuno deve cambiare. Ah, tra l'altro, la carta della luna parla anche di nostalgia, quindi qui ci potrebbe essere come una nostalgia verso il passato, verso qualche cosa che non si è compiuto. Però, andiamo a vedere il diavolo e vi dico che in questo semestre sarà il momento giusto per lasciare indietro questa aspettativa, questo desiderio, questa occasione mancata, diciamo. Allora, qui abbiamo il diavolo che è spiegato da un quadro di bastoni e da un papa. Oh, wow! Che interessante, perché queste sono due carte di compromesso, sono due carte di coppia, sono due carte... Il quadro di bastoni è la carta dell'anime gemelle, ragazzi. Però abbiamo anche questo papa, sono entrambi girata al contrario. O come la sensazione che ci sia qualche tipo di vincolo, per qualcuno vi dirò che potrebbe essere karmico, perché c'è il diavolo, per qualcun altro è un vincolo di anime, che probabilmente... Allora, o condiziona, perché comunque quando c'è il diavolo il condizionamento è nostro, siamo noi che stiamo in quella situazione, oppure è una questione di controllo, di potere. Parcheggiamolo un attimo lì, perché sento che c'è qualche cos'altro da dire, ma ora non lo vedo. Andiamo a vedere... Sette, ok, grazie. Asso di coppe, nove di bastoni, amanti, e cavaliere di coppe. Qui ragazzi c'è da fare un lavoro sull'amor proprio. Avete quattro carte al contrario, quattro carte che parlano di amore, di offerte, di difesa, di amor proprio, e qui abbiamo usato di pentacoli. C'è come un'attesa per quello che riguarda un'offerta. Allora, se state cercando, se dovete capire che tipo di percorso intraprendere, nuovo per esempio, visto che qui abbiamo un 10 di bastoni, ci potrebbe essere un termine, queste due carte mi parlano effettivamente di termini di contratti. Ragazzi, qui ho la sensazione che nel prossimo semestre qualche questione legata al passato, emotiva più che tutto, potrebbe ritornare a galla, c'è da fare una sorta di chiarezza mentale su quello che si vive, si prova, su qualche tipo di questione anche legata alla quotidianità, magari questa paura vi condiziona nelle scelte del quotidiano. Vi dico, qualsiasi cosa sia, che sia una relazione, perché qui comunque abbiamo una famiglia, se ci fate caso, non è una famiglia di seme, ma abbiamo padre, madre e figlio, qualsiasi sia la questione che affronterete nel prossimo semestre, sento che per molte persone c'è una rottura di contratti di anime, di contratti karmici, come se qualcuno avesse compiuto quello che deve compiere. C'è da lavorare poi ancora sull'amor proprio, ma io sento che qui più che tutto si tratta di stabilire i propri confini, o come questa sensazione. Perché non è che non ci si dia un valore, però è come se ci fosse bisogno di stabilire meglio dei confini. Andiamo a vedere il nome di bastoni. Cavaliere di spade, cavaliere di bastoni. Allora qui ragazzi ho l'idea, perché sono carte veloci e c'è questo nome di bastoni. Fate attenzione alla fretta, fondamentalmente. E se siete in situazioni tipo mi viene da dire di rottura familiare, rottura di qualche convivenza, rottura di qualche equilibrio patriarcale, di gerarchia, diciamo, potrebbero arrivare o esserci comunque due personaggi qui dai quali vi dovrete difendere. Io ho molto la sensazione che sia un qualche tema familiare. Quello che vi farà fare, diciamo così, un salto a livello spirituale. Andiamo a vedere la regina di coppe. Oh! Due carte che sono praticamente una all'opposto dell'altra, perché questa parla di abbondanza, questa parla di carenza. La regina di coppe ce l'avevamo anche qui, ragazzi. Sento che in un certo senso dominerete la prima parola che mi è venuta, anche se poi ne avrei scelto un'altra, ma ho sentito che era proprio quella giusta. Le emozioni, le paure, tutto quello che potrebbe ritornare dal passato, tutto quello che potrebbe rappresentare la vostra zona d'ombra con questa luna, io sento che grazie a quest'ora di spade riuscirete piano piano a rompere questi legami. Qui, ragazzi, potrebbe anche semplicemente essere qualcuno che va contro i canoni della famiglia e invece che, vi faccio un esempio tonto, giusto per farvi capire, invece che sposarsi, non lo so, in chiesa, ci si sposa in un bosco. Ecco, per dire, no? E' quello è un po' rompere i canoni della tradizione. Ho come questa sensazione qua. schiavitù con il diavolo, condizionamento, questo è quello che andrete a rompere, dipende da che cosa rappresenta per voi il diavolo, però molte volte rappresenta anche l'ego, ma qui non lo sento tanto, sento più una forzatura. Per qualcuno la forzatura si tratta di energia repressa come per esempio la rabbia, per farvi capire. Andiamo a vedere se di pentacoli. 6 di spade e 7 di pentacoli che avete già qui. allora ragazzi devo dire che molto secondo me ha a che vedere con qualche questione pratica per quello che riguarda questa nostalgia, questo salto, questo svincolo mi verrebbe da dire che per qualcuno torno a ripetere è una rottura di un patto animico come se il patto si fosse concluso, Perché qui terminiamo la lettura con un 6 di pentacoli che è una carta di equilibrio, è una carta di generosità, di apertura e vedendo anche queste due carte un po' come se ci si avviasse verso un nuovo paradigma di vita, di esistenza. Quello che sento è che rompendo questi schemi anche questa mentalità diciamo così di carenza si trasforma in quello che è l'amor proprio. Qui avevamo anche gli amanti prima che era testa in giù e hanno un po' la stessa energia a livello di carica di amore per sé. Va bene ragazzi, andiamo a vedere un oracolo e devo dire che allora quando guardo questo nuovo di bastoni vi sento un po' arresi sinceramente, tra 7 di pentacoli il nuovo di bastoni vi sento un po' arresi inerente alla situazione come se non si potesse fare niente e di qui vi sento invece con le barriere alzate come se avessi bisogno di difendervi da qualcuno o da qualcosa però tutto sommato poi con questa regina di coppe devo dire che c'è come quel chiarimento a livello emotivo e anche un po' a livello razionale perché il diavolo comunque rappresenta la mente l'ego più nello specifico però tutto quello che sono i processi mentali andiamo a vedere un oracolo per vedere che consiglio identifica il cambio esatto esatto identificate il cambio lezione di oggi identifica un piccolo cambio che hai posticipato che e che potresti e che potrebbe migliorare la tua vita può essere qualunque cosa da mettere in ordine un cassetto o osare con una nuova pettinatura il cambio simbolicamente a volte risulta atterrato atterrador atterrante sarebbe l'obiettivo riconosci che rimandi perfino perfino i cambi più piccoli e insignificanti perché intuitivamente sai che possono provocarne altri più potenti wow la paura il cambio primo chakra è un eccesso di primo chakra peraltro se volete approfondire il discorso sui chakra in questi mesi sto proprio approfondendo chakra per chakra e quindi lì potete capire come elaborare come compensare i vuoti di ciascun chakra o gli eccessi di ciascun chakra bene molto interessante ragazzi questa carta devo dire che si tratta di fare quel riordino del quotidiano di cui mi parlava il lotto di pentacoli allora no una sola per piacere andiamo con una meditazione di findor ok non puoi avere la prova di nulla se non lo sperimenti devi muovere un passo nella fede e fare ciò che apparentemente è impossibile devi imparare a vivere al di là di te stesso al di là dei tuoi limiti per avere la prova che con me tutto diventa possibile vivere nei confini del tuo piccolo ego con la paura di uscire dalle frontiere con il timore di mettere alla prova la vita non ti condurrà a nulla e non riuscirai a vedere la mia mano in ogni cosa non temere alcunché sappi che sono sempre con te a guidare e dirigere ogni tuo passo aspettati un miracolo dopo l'altro e guardali accadere guarda il nuovo cielo e la nuova terra manifestarsi appena impari a vivere la vita e a farla funzionare si il diavolo ci parla anche di potere personale però essendoci la luna come carta di base sento che fa riferimento ai condizionamenti va bene amici della bilancia questo è quello che avevo per voi se la lettura insomma vi è stata di ispirazione fatemelo sapere con un commento con un like se avete piacere di appoggiare il canale potete iscrivervi condividere il video lasciare una donazione e se volete iniziare un percorso di crescita con me potete scrivermi un'email per prenotare una sessione privata oppure potete direttamente abbonarvi al canale io vi ringrazio di essere stati qui vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video ciao ciao